musica 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 ragazzi siamo in live tra poco andiamo anche su po' su Fortnite a fare un po' di just chatting venite vi aspettiamo oddio è SWAT oh cazzo si è SWAT scappo scappo ecco stampo qua a me non piace musica musica mamma mia come ti ho distrutto poverino cazzo eh SWAT questo qua non l'ho guardato ma poteva essere un un hack visto che ho visto che stava girando su se stesso e poi è sparato a caso quindi quindi potrebbe essere un hacker no no è qua a fianco sono uno qua a fianco mamma mia guarda ringrazio che stiamo in live ma ringrazio che stiamo in live è tipo per dire che sono avversi bestemmiato e ti ho dato giù sei santi diversi no? no 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 mi dà un golino eh beh però raga mi so prenderli io non è possibile non è possibile non è possibile cazzo via vabbè 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 no vabbè frate oh vabbè frate che cosa sto facendo oh mio dio oh mio dio che cosa ho fatto no vabbè frate cosa ho fatto frate cosa ho fatto su questa va su tik tok domani ma questa idea forse va anche su youtube cioè frate l'ho distrutto ce l'ho distrutto tutto proprio c'è proprio c'è migno raga clippatevi prego qualcuno clippi vi prego c'è nessuno in live ma vi prego qualcuno clippi basta ho fatto davvero una roba impossibile e vabbè qua purtroppo ma che cazzo si vabbè ragazzi no i nostri compagni stanno facendo 3 kill cioè ok davanti si adesso non c'è l'aria grazie eh ho mirato e che cazzo ho mirato che non bisogna mai mirare qua questo gioco la cosa che non bisogna fare è mirare ma ne hanno incrementato i kill invece sul gioco o no? eh ma che cazzo non sto facendo più una kill te lo dico sono infogato troppo con quella con il tupla che ho fatto questo è io qui dove pareti è sempre tu eh ma questo qua è da destra comunque io mi sono visto come la gente cosa fare 6 kill e 7 kill cioè mamma mia quante 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 oh cazzo merda 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 carico io sono 3 di fatto fatto guarda questo qua è da canale comunque te lo dico orca vaca hai lanciato in faccia a lui eh ne ho visto basta basta è sempre questo paretico perché devi svegliere il 3 ma mia o perché adesso miro così tanto quando miro? non ci creda dietro l'angolo ok questo è da canale questo è da canale questo è da canale questo è da canale ciao youtube ciao youtube cioè guarda questa guarda questa kill guarda questa kill è da canale ma la gente come è ca... è ma... vai per... madonna è una mappa nuova non ce capisco Dov'è? Fermi, 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 è fatto! Siuma! Ok, uno fatto. Mamma mia! Cazzo, è sull'ultimo? Tutto vuole. No, no, 10 minuti. Sono fortissimo, sono veramente troppo forti, sono una bestia, sono una bestia.